Secondo te il Napoli l'ha amato troppo, cioè sai la sensazione che ho avuto io quasi? È come se fosse talmente tanto un Dio sceso in terra lui a Napoli e in qualche modo la città l'ha protetto, l'ha coperto, cioè quasi un eccesso d'amore nei confronti di quest'uomo che aveva riportato a Napoli la voglia di vincere, il senso di essere al centro del mondo. Era l'uomo del riscatto, ma era una per i napoletani, l'ha amato troppo, troppo, come una mamma a volte ama il proprio figlio in maniera sbagliata, l'ha protetto, Maradona viveva in sembiosi con i tifosi napoletani e tutto quello che faceva veniva considerato giusto o fatto bene perché lo faceva Maradona, non credo che lui non abbia fatto errori, ne ha fatti errori Maradona, ma ci ha sempre messo la faccia, è sempre stato uno che ha detto quello che pensava, non ha mai avuto paura di niente e per questo era amato anche dai compagni, i compagni non gli faceva mai affrontare una cosa che poteva essere pericolosa per loro, c'era lui, faceva da scudo, sempre fatto da scudo, non ha mai detto un compagno sei capace, anche perché sapeva che lui era talmente superiore a tutti che gli altri non potevano fare.